Gianluca, questa idea di partecipare al Talent Academy, credo abbiamo portato al gruppo dei nuovi risultati, visto la partecipazione oggi dei ragazzi, no? Assolutamente sì, è stata una gran bella idea avere questa ventata di freschezza, questo confronto con un mondo che i giovani di oggi guidano il cambiamento e portarli in casa, lavorare sui nostri temi tutti i giorni e ci ha dato sicuramente un gran valore aggiunto. Devo dire che è anche una grandissima capacità dei ragazzi di comprendere le esigenze che noi abbiamo chiesto loro di andare ad approfondire con questi loro lavori, ma soprattutto la capacità di vedere già l'innovazione che in un settore come quello bancario, ancorato alla tradizione, ancorato alla solita rutinità, loro hanno veramente trovato dei momenti e delle riflessioni su cui potremo insieme a loro anche magari crescere. Assolutamente sì. Quali sono le parole con l'hashtag che dobbiamo ricordarci oggi? Entusiasmo, passione, comunque grande professionalità, perché ho visto un po' dei professionisti in erba, presentavano tutti molto bene, quindi chapeau, molto bravi. Capacità anche visual, di creazione, siti web, grafica, video. Per noi è molto importante, come diceva Paolo, teniamo molto alle nuove leve perché poi come vedrete nel corso del pomeriggio, Canon è in grande cambiamento e noi confidiamo molto alle nuove generazioni per darci una mano a colpire, a completizzare questo cambiamento. Intanto anche da parte mia, grazie, è sempre un piacere, secondo me, incontrare i giovani, perché poi diventano confronto, sono molto vissuti. Abbiamo veramente tanto da imparare e mi sono sentita contaminata, ma nel verso giusto, nella modalità giusta. Grazie a tutti.